Lungomai di Livorno Lungomai di Livorno è il libro che ho dedicato alla città in cui sono nato, in cui ho più o meno sempre vissuto, deve il titolo Lungomai a una canzone di Battisti Panella che si chiama Le cose che pensano. Lungomai di Livorno mi sembrava che questa strana parola Lungomai definisse bene lo stato di chi si è trovato a nascere e a crescere in quella città, che è una città di grandi energie che però in qualche modo sono destinate a rimanere incatenate come quei quattro mori che poi sono il monumento simbolo della città. La città è raccontata attraverso tre traslochi e quindi tre case che danno lo spunto per parlare di tre quartieri che sono il quartiere Stazione, Piazza Magenta e alla fine appunto quello che io definisco il Lungomai che è appunto tutta la zona dell'Italia, del litorale. Quindi tre case, tre immobili, questo era il primo titolo che avevamo pensato per il libro, appunto immobili nel doppio senso di case ma anche di uno stato dell'anima che in qualche modo riguarda un po' tutti i livornesi. Grazie a tutti!